Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, intanto ringrazio la Casa della Cultura che ospita questa iniziativa del Centro Filippo Bonarrotti, introduco brevemente il tema della serata e i nostri relatori. Il titolo di questo incontro è perché ricordare il 19 febbraio e proporre questa data come giornata in memoria delle vittime dell'imperialismo italiano ed europeo. Il riferimento è al 19 febbraio 1937, data in cui a seguito del fallito attentato a Rodolfo Graziani ad Addis Abeba, quindi era il vicere d'Etiopia, le autorità italiane diedero inizio a una rappresaglia, un enorme massacro che durerà mesi, che provocherà secondo alcune stime più di 20.000 morti e che culmina con il massacro presso la comunità monastica di Debre Libanos, la più importante d'Etiopia nel maggio del 1937. Ne parliamo insieme a Gabriele Merola del Centro Filippo Bonarrotti e al professor Paolo Borruso, che è docente di storia contemporanea presso l'Università Cattolica di Milano, autore di numerosi testi sull'Africa e sul colonialismo italiano, tra cui appunto il libro di cui ci parlerà questa sera, Debre Libanos 1937, il più grave crimine di guerra dell'Italia, edito dalla Terza. Come centro studi, appunto Filippo Bonarrotti, un centro studi di orientamento marxista che da più di 25 anni porta avanti un approccio scientifico allo studio della storia. Abbiamo l'obiettivo di riportare alla luce, di porre l'attenzione su avvenimenti spesso dimenticati e con l'obiettivo di dare voce agli oppressi, dare voce a chi ha subito spesso questi eventi storici. Ne sono un esempio le mostre e le iniziative che abbiamo organizzato sulla resistenza operaia al nazismo in Germania o sui bombardamenti italiani sulla Catalonia durante la guerra di Spagna e da ultimo quella la mostra sulla comune di Parigi che abbiamo inaugurato alla statale che continuerà a girare in questi mesi. Da insegnanti però, da insegnanti e studiosi, appassionati di storia, guardiamo al passato per trarre insegnamenti e riflessioni che riguardano il presente e secondo noi quelli di questa sera sono temi molto attuali perché la guerra oggi come allora è una guerra appunto di spartizione imperialistica, il razzismo ancora fortemente presente nell'ideologia e queste sono appunto insieme anche al tema delle migrazioni. Sempre qui alla Casa della Cultura a dicembre abbiamo fatto un convegno su demografie e migrazioni. Questi temi sono quelli che cercheremo di portare nei prossimi mesi il più possibile nelle scuole, quindi ricordo a tutti la disponibilità del Centro Filippo Bonarrotti se ci sono insegnanti, anche dirigenti scolastici interessati potete prendere i nostri contatti e lasciare appunto i vostri riferimenti per organizzare iniziative nelle scuole e nell'università su questi su questi temi. Anticipo tra l'altro che ci sarà una seconda iniziativa sempre su questo tema del colonialismo italiano, delle responsabilità quindi dell'imperialismo italiano più in generale europeo, mercoledì primo marzo alla sala del Grechetto ci sarà un incontro con Anna Di Sapio e Marina Medi che sono autrici del libro Il colonialismo italiano in Africa tra passato e presente, quindi ritorneremo su questi temi. Vi comunico che alla fine delle relazioni ci sarà spazio per il dibattito, vi chiedo di fare domande brevi e puntuali in modo che ci possa essere il tempo di dare anche risposte. Chiedo a tutti, ricordo a tutti di spegnere o silenziare i cellulari e per il primo intervento do la parola per l'intervento introduttivo a Gabriele Merola del centro Filippo Bonarro. Allora, buonasera a tutti. Io diciamo per introdurre questa serata partirei dal motivo per cui ci fa particolarmente piacere avere qui con noi il professor Borruzzo e presentare il suo libro Debre Libanos 1937 che come ricordava Panni parla appunto dei drammatici eventi avvenuti fra il febbraio e il maggio del 1937 in Etiopia e in Pazia su un periodo più ampio che parte dalle origini diciamo dell'avventura coloniale del fascismo fino poi al suo epilogo dopo la fine della seconda guerra mondiale. In realtà a motivare l'iniziativa di stasera basterebbe già solo il sottotitolo del libro che appunto come ricordava Panni è il più grave crimine di guerra dell'Italia e quindi basterebbe la vicenda in sé cioè un brutale massacro di più di duemila persone ad opera del colonialismo italiano dell'Italia fascista e cattolica come scrive il professore nel libro. Un triste conteggio che poi purtroppo aumenta in alcune stime fino addirittura a 30.000 vittime in Etiopia in quegli anni se si considerano le deportazioni e i fenomeni annessi ad opera del regime coloniale fascista. Ma in realtà questo libro ed è anche il motivo per cui abbiamo organizzato questa iniziativa e anche le prossime che organizzeremo in realtà assume secondo noi un significato più ampio. Un significato che potremmo dire trascendeva oltre la stessa tragedia del massacro di Debre Libanos che il professore poi invece avrà modo di approfondire e raccontarci. Perché il vero nodo che va a toccare questo libro per cui è un libro importante secondo noi è il nodo del rapporto fra la storia e la memoria. Nell'introduzione a pagina 20 il professore infatti scrive che in questo libro si intende riportare l'attenzione su di una vicenda che ha visto la diretta responsabilità dell'Italia fascista e cattolica in una delle pagine più drammatiche della sua storia nazionale e soprattutto della storia dell'Africa. Non si tratta di individuare responsabili e colpevoli peraltro già noti agli studiosi ma di far uscire la vicenda da quell'oblio collettivo che per decenni ha segnato la storia del colonialismo italiano e la percezione dell'Africa nell'opinione pubblica e scrive che il rapporto tra storia e memoria rimane un pollo di resistenza fondamentale per la difesa di una cultura civile. Si tratta di un tema vitale per la coscienza pubblica. Noi su questo siamo d'accordissimo e se questo è l'inizio del libro io poi vi leggo proprio le ultime righe del libro dove il professore parla di quello che appunto poi fu l'occultamento no che è un termine che ritorna spesso nel libro e parla di tutti le varie i vari luoghi di questa tragedia e parla anche dice che questa cosa qui accadde anche nella valle di pronuncio bene Engecia che finì per cadere nell'oblio nessuno dei parenti o dei preti venne a chiedere la restituzione dei corpi per dare loro una sepoltura cristiana fu così che la tragedia di Engecia finì per scomparire con l'uscita di scena di Graziani il maresciallo Graziani il carnefice diciamo sia in Etiopia che in Libia ed essere sepolta dai successivi eventi del dopoguerra mentre i resti delle vittime innocenti di quel grande massacro rimasero sulla pianura alluvionale del fiume vorale dimenticati dalla storia eccetto che dai pochi testimoni della loro fine ecco questo per quanto ci riguarda è inaccettabile grida la necessità di una battaglia su questo perché forse la cosa ancora più dolorosa di queste vicende al di là dei massacri è proprio l'oblio l'occultamento termine appunto che torna spesso nel libro di questa tragedia perché l'oblio per queste persone che hanno subito tutto questo potremmo dire che è come una seconda morte un'ulteriore violenza che toglie ogni dignità ogni possibilità di riscatto a chi non può difendersi a chi non ha voce agli sconfitti e agli oppressi in tutto il mondo nella storia come oggi e invece è da sempre al centro del nostro impegno come centro Filippo Buonarroti e più in generale del nostro impegno da internazionalisti portare avanti una battaglia senza sosta contro l'oblio contro l'occultamento della storia degli oppressi contro la storia narrata dai vincitori per dare invece di nuovo dignità e di nuovo voce a chi non ne ha una battaglia portata avanti anche da altri grandi storici coraggiosi qua in Italia come Angelo del Boca come il professore ricorda nel suo libro contro il mito degli italiani brava gente mito falso e particolarmente ripugnante se si tiene presente che le vittime del colonialismo italiano in Africa tra Libia Eritrea Etiopia e Somalia oggi si stimano in circa mezzo milione Angelo del Boca di cui rilanciamo oggi proprio in questa sede la proposta del 1998 messa in cassetto da tutti i governi dei passati 25 anni di sinistra o di destra che fossero di istituire una giornata in memoria delle vittime africane dell'imperialismo italiano ed europeo ed è su questo che vorrei approfondire la mia riflessione perché nella soprefazione al libro Andrea Riccardi a pagina 6 afferma che in realtà la politica coloniale del fascismo è rivelatrice del volto oscuro del regime e della logica di violenza e di odio che lo pervadeva la crudeltà era in qualche modo necessaria dice Riccardi per l'impronta totalitaria del regime rivelatasi chiaramente nell'impresa coloniale potrà sembrare un'affermazione paradossale la crudeltà era necessaria perché il fascismo con questa guerra agiva in modo totalitario e mostrava il suo volto totalitario ecco secondo noi sono necessarie due osservazioni su questo in primo luogo che per quanto ci riguarda in realtà il suo volto oscuro il fascismo l'ha mostrato in maniera evidente fin da subito con la violenza cieca dello squadrismo foraggiato dai grandi industriali dalla borghesia italiana e dai latifondisti italiani per schiacciare il movimento operaio e quello dei braccianti nelle città e nelle campagne in italia e poi in secondo luogo soprattutto vorremmo porre attenzione su questo la violenza è prerogativa solo dei totalitarismi come vengono definiti oppure vi è anche il volto oscuro dell'italia liberale per esempio quella che precede il regime ci sono i massacri degli operai negli scioperi della seconda metà dell'ottocento le cannonate in piazza duomo qua a milano di vava beccaris contro gli operai che chiedevano il pane le avventure coloniali e gli ecidi in libia in abissinia da crispi fino a giolitti ma poi soprattutto in quegli stessi anni c'è il volto oscuro delle grandi democrazie europee della francia dell'inghilterra della spagna le grandi democrazie che esattamente come il fascismo negli anni 20 e negli anni 30 del novecento bombardano le città e i civili coi gas tossici deportano e massacrano in iraq in algeria in libano in siria in marocco in cina in india e in mezzo mondo c'è l'orrore qualche anno prima del congo belga di leopoldo secondo si stima che le vittime del colonialismo europeo in africa e in asia dalla seconda metà dell'ottocento si aggirino fra i 50 e i 60 milioni di persone 700 mila in algeria 10 milioni in congo 1 milione 300 mila in costa d'avorio 6 milioni in sudan e potremmo andare avanti riguardo a questo giovedì scorso sul correre della sera è apparso un articolo interessante in cui uno storico ernesto galli della loggia ci invitava per carità non a giustificare ma comunque a contestualizzare tutto questo l'articolo si intitolava le bombe democratiche e cosa scrive ernesto galli della loggia dice l'italia è forse il paese cosa francamente discutibile dell'europa occidentale nella cui discussione pubblica si fa il maggiore uso della storia uso e abuso troppo spesso si trascura di osservare uno dei suoi primi comandamenti cioè l'obbligo di contestualizzare cioè l'obbligo di non giudicare il passato con i criteri dell'oggi bensì di valutarlo nel suo tempo e ciò vale anche per la storia del fascismo e delle sue imprese e quindi cosa dice ernesto galli della loggia sul giornale della grande borghesia del nord italia che alla fine londra e parigi colpirono i ribelli delle colonie con i gas tossici esattamente come l'italia fascista e quindi cosa dice dice che questo non già per diminuire le colpe del duce e dei suoi ma per evitare il falso giudizio di aditare questi fatti come eccezionali perché perché lo facevano tutti e quindi bisogna contestualizzare questo viene detto ecco giusto due osservazioni in primo luogo vorremmo ricordare che non si tratta di epoche o di fatti avvenuti non so nella tarda età del bronzo ma stiamo parlando degli anni 20 e 30 del novecento quindi francamente non capiamo cosa ci sia da contestualizzare se non da condannare se mai e in secondo luogo quello che vorremmo sottolineare è che in realtà questo discorso è solo l'ulteriore conferma che appunto non si tratta del volto oscuro del solo fascismo ma del volto oscuro dell'imperialismo in generale in tutte le sue forme del sistema sociale in cui viviamo di una regolarità del sistema capitalistico giunto al suo massimo grado di sviluppo e d'altronde la natura dell'imperialismo che non può che generare violenza e barbarie in tutto il mondo e che lo fa al di là delle forme politiche che assume nelle varie potenze il dominio della classe borghese questo perché come ci insegna l'inperialismo è prima di tutto un fenomeno economico sono l'ineguale sviluppo economico e la lotta di spartizione mondiale tra grandi gruppi e stati la spartizione dei mercati e delle sfere di influenza a dilaniare da più di un secolo il mondo è questa la lotta che oggi insanguina l'ucraina la siria la libia l'afghanistan e la stessa etiopia che poco fino a pochi mesi fa era immersa in una guerra civile terribile che ha fatto centinaia di migliaia di morti frutto proprio del movimento di queste frazioni borghesi etiopi messi in movimento dall'ingresso di colossali capitali imperialistici di tutte le potenze cinesi europei americani è lo stesso motivo è questa lotta che oggi ha impedito negli scorsi anni di costruire delle case che resistessero ai terremoti in turchia mentre invece si spendevano decine di miliardi di dollari in armi carri armati e droni da guerra una lotta tra le potenze che siano esse democratiche o autocratiche come va di moda dire oggi sono sempre comunque tutte potenze imperialistiche in cui domina il grande capitale e anche oggi siamo di fronte a questo la crisi dell'ordine mondiale genera in maniera crescente violenza guerra un colossale ciclo di riarmo spinte protezionistiche tra le grandi potenze e allora in questo che noi vediamo la grande attualità del libro del professor borruso perché anche oggi si ripropone allo stesso modo che per il passato la necessità vitale di combattere un nuovo occultamento che è quello della nostra epoca cioè quello che riguarda la potenza di casa nostra la democratica europa che si presenta come faro della libertà e dei diritti nel mondo perché oggi c'è anche il volto oscuro dell'europa imperialista in africa e infatti ho trovato interessante che il termine occultamento che appunto torna spesso nel libro è lo stesso che usa il giornale die zeit giornale tedesco per descrivere la politica che porta avanti la germania e l'europa sulle migrazioni in africa die zeit scrive che la germania attuato una politica di occultamento la faccia repressiva e odiosa viene trasferita ad altri paesi come il marocco la grecia i balcani la turchia qui in collaborazione con l'agenzia europea di protezione frontex si verificano brutali infrazioni dei diritti umani come pericolosi respingimenti addirittura in alto mare ma i costi sulla reputazione diminuiscono perché non si vedono le violazioni anzi diventa un modello vale nei balcani per i tedeschi come in libia per gli italiani lontano dagli occhi lontano dal cuore e diciamo che possiamo dire ha dato una bella definizione di questo delle motivazioni di questo e anche dal punto di vista psicologico charles michel presidente del consiglio europeo che ha spiegato come mai avviene questo ha detto che qui in europa negli scorsi decenni abbiamo costruito un meraviglioso giardino un giardino dove tutto è ordinato e funziona mentre fuori fuori nel mondo c'è il caos e allora questo meraviglioso giardino se vogliamo preservarlo dobbiamo difenderlo il risultato è che attorno all'europa c'è un vero e proprio arcipelago gulag infatti dal marocco alla turchia si stima che siano rinchiuse in questo anello che circonda l'europa in varie forme di detenzione circa 10 milioni di persone nel volontariato di circoli operai internazionalisti a cui personalmente partecipo abbiamo incontrato le vite e le storie di migliaia di queste persone uomini donne e bambini che lo hanno conosciuto questo arcipelago gulag e ne sono fuggiti l'europa democratica di oggi è quella degli accordi del 2017 del governo pd di gentiloni con ministro degli interni minniti coi famosi sindaci libici come vennero definiti all'epoca tagliagole fondi per oltre un miliardo di euro per mettere su veri e propri lager in libia per controllare i flussi migratori piano confermato tra l'altro lo scorso 3 novembre nel silenzio generale dal nuovo governo l'europa è quella degli accordi europei siglati da francia e germania per 6 miliardi di euro con il turco erdogan per gestire i profughi siriani gestire fra virgolette 3 milioni di uomini e donne e bambini tenuti in campi faticenti da anni è quella delle commesse militari e dei grandi affari dell'italia col dittatore egiziano al sisi e dei piani mattei dell'eni per fare miliardi con tutti i tagliagole della libia è quella delle ragazze di kabul e dei profughi ucraini iracheni e afghani scusate lasciati morire di freddo nei boschi al confine tra polonia e bielorussia lo scorso inverno il consiglio europeo della settimana scorsa delle grandi democrazie europee ha deciso tra l'altro di continuare su questa linea riporta il corriere della sera dell'altro giorno che il consiglio europeo chiede alla commissione europea di mobilitare immediatamente ingenti fondi e mezzi europei per sostenere gli stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione delle frontiere protezione da donne e bambini giorgia meloni premier italiano ha detto la turchia ha ricevuto 6 miliardi di euro negli anni passati per contenere le migrazioni sul proprio territorio non vedo perché non possiamo aspirare ad investimenti di uguale portata sulle rotte del mediterraneo cosa succede sulle rotte del mediterraneo cosa succede in libia con i soldi dell'europa e del governo italiano nello scavo che è un inviato da decenni dell'avvenire ha pubblicato un reportaggio si chiama libiagate in cui scrive il procuratore capo dell'aia del tribunale internazionale karim khan nell'aprile del 2022 ha mandato gli investigatori in ucraina per investigare sulla strage di bucia terribile strage grande eco mediatica negli stessi giorni lo stesso khan ha consegnato il suo rapporto sulla libia al consiglio di sicurezza dell'onu ma non ne ha parlato nessuno dice nello scavo gli abusi contro i migranti scrive possono essere qualificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità super reportage il report per l'onu per togliere ogni dubbio khan parla di crimini commessi nei centri di detenzione ossia di strutture ufficiali poste sotto il controllo del governo e finanziate in euro la stragrande maggioranza dei migranti era tenuta in struttura in condizioni di vita degradanti qui migranti subiscono atti di rapimento a scopo di riscatto tortura violenza sessuale e di genere lavoro forzato e uccisioni l'85 per cento dei migranti e dei rifugiati giunti dalla libia in italia ha subito torture e trattamenti inumani e degradanti il 79 per cento è stato rinchiuso in luoghi sovraffollati e in pessime condizioni igienico sanitarie il 75 per cento ha subito costanti deprivazioni di cibo acqua e cure mediche il 65 per cento gravi e ripertute percosse migliaia sono stati sottoposti a stupri oltraggi sessuali ustioni provocate con gli strumenti più disparati percosse scariche elettriche e torture da sospensione e dice questa tendenza è stata aggravata con la firma del famoso memorandum con l'italia del 2017 appunto nella prefazione al libro riccardi dice che una delle caratteristiche del fascismo era la propaganda dell'odio che può trasformare rapidamente le società le persone soprattutto quando si è mobilitati in un conflitto contro un nemico che viene disumanizzato il razzismo e il disprezzo verso l'etiope ne facevano un non uomo ecco la domanda che vogliamo porre noi è oggi è diverso secondo noi no in un'europa in declino economico demografico e sociale vengono sempre più diffuse ideologie della paura ideologie razziste xenofobe e nazionaliste in tutte le forme da tutti i partiti e la più forte pericolosa di tutte è a nostro avviso quella del nuovo sovranismo europeo quella appunto del giardino che va difeso spacciata da tutti i partiti del grande capitale che cavalcano il riarmo o in forme nuove specifiche come qui in italia dai loro ringhianti servi populisti l'europa di cui ci parlano è una fortezza pulita e ordinata con confini ben difesi con una sua forza di sicurezza e una sua politica estera con una sua polizia di frontiera e un suo esercito europeo ma allo stesso tempo una fortezza che lancia i suoi capitali e i suoi campioni economici in giro per il mondo con colossali investimenti in africa in asia per la nuova battaglia economica mondiale sull'elettrico e il digitale e sfidi i giganti del resto del mondo da questo punto di vista questa illusione velenosa di un mondo sicuro nascosto dentro ai confini protetti dell'europa verrà senza dubbio squarciata nei prossimi anni dalle tempeste che prepara l'imperialismo e lo è già in parte oggi dalla guerra in ucraina l'imperialismo europeo oggi lancia giganteschi piani economici per sfidare le altre potenze investe centinaia di miliardi in armi attua brutali politiche di selezione e segregazione dei migranti ai suoi confini per questo pensiamo che ieri come oggi sia assolutamente vitale non voltarsi dall'altra parte non far scivolare nell'oblio e nell'occultamento tutto questo ma al contrario guardare dritta in faccia la reale natura imperialistica dell'italia e dell'europa il suo volto oscuro e brutale ed è qui che secondo noi come dicevo sta la grande importanza del libro del professor borruso a cui ora lascio la parola e della battaglia nello studio storico contro l'occultamento e gli interessi che lo producono ed è in questo che la vecenda di debre libanos e del suo oscuramento può essere di grande insegnamento per l'oggi in senso generale per sfidare con lo sguardo della scienza e il coraggio della nostra volontà i volti oscuri della nostra epoca prego adesso la parola al professor borruso grazie si sente sì io ringrazio innanzitutto per questo invito che mi sembra che anche dalle dalle parole che sono state dette fino adesso inquadrano un po il senso di questo di questa vicenda motivata da dalla memoria prima si parlava storia e memoria quindi come un polo di resistenza civile in cui io oltre a scrivo a scriverlo credo molto e perché in memoria che senso ha ricordare fare memoria di questa vicenda eh penso che siamo in un momento anche storico molto difficile eh ricordo che nel secondo dopoguerra il massimo responsabile di questa vicenda maresciallo graziani non fu mai processato per queste vicende venne processato sì per le vicende della repubblica sociale eh ma scontò tre quattro mesi mi sembra di carcere divenne presidente onorario del movimento sociale ricordo come qualche anno fa ci fu il caso di Castiglione delle Stiviere in cui una via venne intitolata a Pietro Maletti che era stato il generale che aveva condotto il braccio operativo di Graziani in questa vicenda di Debre Libanos poi quella via venne rimossa diciamo ecco per dire come eh mi sembra molto importante quello che stiamo eh questa iniziativa ecco per questo io ho accettato molto volentieri eh vengo al alla vicenda Debre Libanos eh Debre Libanos in lingua amarica Debre Libanos in tigrino eh Debre Libanos eh 1937 questo tragico episodio che vede eh circa duemila monaci cristiani del monastero di Debre Libanos eh uccisi per mano italiana il sottotitolo il più grave crimine di crimine di guerra dell'Italia perché crimine di guerra eppure l'Italia non è mai stata processata per crimini di guerra eh il crimine di guerra noi lo sappiamo che le guerre significano violenze uccisioni eh in molti casi queste violenze e queste uccisioni sono il frutto di ordini militari ma quando queste violenze vanno oltre gli scopi puramente militari cioè oltre la cosiddetta pratica di guerra che pure di per sé è luttuosa allora si tratta di violenze che potevano essere risparmiate ma che in determinate circostanze come per esempio Debre Libanos sono state inflitte contro persone inermi per di più monaci cristiani 1935 Mussolini invade l'Etiopia nel 1935 è un anno eh importante determinante perché l'invasione dell'Etiopia non è soltanto una conquista coloniale ma sconvolge l'ordine internazionale tanto che diviene una forse il nodo che conduce poi alla seconda guerra mondiale ma perché l'Etiopia? L'Etiopia in fondo è l'unico paese africano rimasto indipendente dell'Africa il resto dell'Africa era colonizzata per di più l'unico paese africano ad aver sconfitto uno stato europeo come l'Italia la battaglia di Adua 1896 tentativo di occupare di penetrare in Etiopia da parte di Crispi che eh subisce una clamorosa sconfitta e allora Mussolini aleggia la vendetta vendicare Adua ed è uno dei motivi della propaganda come vediamo in questa cartina Mussolini mobilita il massimo delle forze militari italiane circa mezzo milione di uomini più gli armamenti più l'aviazione più i mezzi pesanti più gli animali da Soma che erano eh che dovevano ehm aiutare l'avanzata e attacca l'Etiopia da nord cioè dall'Eritrea che era già colonia italiana e da sud dalla Somalia anch'essa colonia italiana per abbreviare i tempi della conquista fa uso di armi proibite i gas i cosiddetti gas le prite era il più noto ce ne erano altri erano gas che erano stati usati nella prima guerra mondiale e che erano stati proibiti poi da una conferenza a Ginevra nel venticinque proprio in seguito alle eh agli effetti devastanti in sette mesi l'Etiopia diventa italiana qual era il problema l'attacco avviene in ottobre alla fine della stagione delle piogge e si conclude nel maggio del trentasei quindi poco prima dell'inizio della nuova stagione delle piogge c'era un motivo strategico Mussolini proclama la fine della guerra d'Etiopia nel maggio trentasei nove maggio trentasei da Palazzo Venezia annuncia appunto l'Etiopia italiana e la fondazione dell'impero africano d'Italia eppure la guerra non finisce è paradossale perché mentre l'imperatore Haile Selassie era stato costretto a fuggire in esilio in Inghilterra gli etiopici cominciano a organizzarsi questa è una foto molto singolare si organizzano in bande partigiane a cominciare dai dalle periferie di Addis Abeba con azioni di guerriglia faccio notare questa curiosa capigliatura dovuta al giuramento di non tagliarsi i capelli fino alla sconfitta definitiva degli italiani quindi era un senso identitario contro l'invasore e qui che avviene dicevo la guerra non finisce eh la resistenza etiopica comincia a organizzarsi il diciannove febbraio del trentasette come ci è stato ricordato poc'anzi avviene questo noto attentato a Graziani eh è un clima di tensione eh il diciannove febbraio viene indetta una cerimonia eh una cerimonia particolare ad Addis Abeba in onore della nascita del primo genito di Re Umberto II cioè Vittorio Emanuele e allora eh si convoca questa cerimonia si distribuiscono ehm eh si distribuiscono eh i talleri di Maria Teresa eh al ai mendicanti è un atto così e durante questa cerimonia Graziani viene colpito dalle schegge di granate lanciate da due eritrei che agiscono isolatamente cioè quindi non avevano legami con la resistenza etiopica anzi eh erano due ex impiegati dell'amministrazione coloniale italiana per tre giorni la capitale Addis Abeba viene messa a ferro e fuoco da bande di fascisti italiani cioè non furono i militari italiani ma furono le camicie nere che scatenarono una vera e propria rappresaglia nei confronti degli etiopici le vittime etiopiche eh furono migliaia la documentazione disponibile diciamo ne attesta circa tremila ma le fonti etiopiche parlano di cifre molto più alte ventimila trentamila qui è molto difficile stabilire l'entità sentite che cosa scrive il giornalista Ciro Poggiali che era inviato del Corriere della Sera molto vicino al regime quindi e le sue espressioni colpiscono perché racconta quello che effettivamente veniva ne ho preso uno straccio ve lo leggo scrive Ciro Poggiali tutti i civili che si trovano ad Addis Abeba in mancanza di una organizzazione militare o poliziesca hanno assunto il compito della vendetta condotta fulminiamente coi sistemi del più autentico squadrismo fascista girono armati di manganelli e di sbarre di ferro accoppando quanti indigeni si trovano ancora in strada in breve le strade sono seminate di morti vedo un autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza gli trapassa la testa da parte a parte con una baionetta inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara ed innocente e prosegue Poggiali gli ordini di Roma sono tassativi in Italia si deve ignorare spettacoli da tragedia delle immense fiammate notturne la popolazione indigena è tutta sulla strada impressionante indifferenza dei capannelli di donne e di bambini intorno alle masserizie fumanti non un grido non una lacrima non una recriminazione gli uomini si tengono nascosti perché rischiano di essere finiti arrandellate dalle orde punitive episodi orripilanti di violenze inutili mi narrano che un suddito americano per aver soccorso un ferito abissino è stato abbastonato dalle squadre dei randellatori fin qui Poggiali foto come queste ce ne sono molte tre giorni a di Sabeba vive il ferro e il fuoco e l'azione repressiva continua qui vediamo alcuni dei telegrammi di Mussolini e Graziani tutti i ribelli fatti prigionieri devono essere passati per le armi per finirla con i ribelli impieghi gas autorizzo ancora una volta vostra eccellenza a iniziare e condurre sistematicamente la politica del terrore dello sterminio contro i ribelli e le popolazioni complici ed è qui che avviene che viene elaborata una pianificazione della strage di Debre Libanos in questo clima fortemente repressivo perché Debre Libanos è il più importante centro monastico d'Etiopia luogo di pellegrinaggio per fedeli cristiani etiopici in particolare viene scelta la data il 20 maggio perché il 20 maggio ricorre la festa del fondatore San Tecle Haimanot del tredicesimo secolo parliamo di un di un cristianesimo molto antico poi ci ritorno l'occasione ideale per provocare il massimo numero di vittime quindi perché giorno di massima affluenza dei pellegrini queste che vedete sono rarissime fotografie non esiste documentazione su su questo evento c'è l'espressione liquidare l'ordine è quello di liquidare definitivamente perché Debre Libanos l'accusa è quella che il monastero sia una copertura alla resistenza etiopica questo è il motivo di fondo prove mai accertate i sopravvissuti a questa strage vengono eh deportati nei in campi di concentramento il più noto è quello di Danane sulla costa della Somalia ma anche molti in Italia in Italia e in alcuni luoghi di confino Ventotene, Pantelleria, Lasinara è una vicenda su cui mi sono trovato a scrivere anche questa circa più oltre 400 etiopici generalmente ex impiegati, ex collaboratori dell'amministrazione italiana vengono deportati perché sospettati appunto di aver tradito Danane a Danane si vive in condizioni disumane un'alta mortalità eh per condizioni precarie di vita ma con quali motivazioni si arriva alla strage e perché proprio l'Etiopia? L'Etiopia come vediamo è un paese caratterizzato non so se qualcuno di voi c'è stato ma è un paese un altopiano roccioso Addis Abeba si trova a duemila metri sul livello del mare circondato da bassopiani è l'unico paese dell'Africa in cui si parlano antiche lingue scritte perché questa è diciamo nella ehm le lingue africane solo recentemente sono state traslitterate ma ehm le lingue africane erano lingue orali in Etiopia no in Etiopia ci sono lingue scritte di derivazione semitica quindi dirivavano giungevano un po' dall'area medio orientale il tigrino che si parla al nord in Eritrea l'amarico che si parla nel centro e l'antica lingua sacra il ghes che viene usata nelle funzioni liturgiche qui vediamo una bella fotografia l'imperatore Ailesse Lassie il cui nome vuol dire forza della Trinità l'imperatore è cristiano e il cristianesimo etiopico ha una una storia molto originale molto singolare è l'unico cristianesimo giunto in Africa non dalle missioni europee quindi un cristianesimo africanizzato già dai primi secoli arriva intorno al quarto secolo si caratterizza l'Etiopia per essere un impero cristiano cioè l'imperatore è cristiano per motivi storici la chiesa etiopica si è andata ehm legando al mondo delle chiese ortodosse ma di fatto è l'unica chiesa autenticamente africana la famiglia dell'imperatore qui vediamo allora l'Etiopia è un impero un vero e proprio stato riconosciuto a livello internazionale pensate che l'Etiopia faceva parte della società delle nazioni come l'Italia fascista l'unico stato africano a far parte di un organismo internazionale sovranazionale aveva un imperatore una corte imperiale un'amministrazione e un esercito aveva anche una sua moneta come ricordavo prima è l'unico stato africano ad aver difeso la propria indipendenza lungo i secoli dal colonialismo europeo eh ritorno su questo tema del cristianesimo etiopico perché ha una valenza particolare innanzitutto il cristianesimo etiopico viene spesso ehm denominato come cristianesimo copto in realtà è un termine improprio perché copto vuol dire egiziano e per motivi storici la chiesa etiopica era stata una filiazione della chiesa egiziana cioè era si era legata alla chiesa egiziana come se fosse una chiesa dipendente diciamo dalla chiesa cotta d'egitto ma in realtà ha avuto un una sua evoluzione autonoma a partire dalla lingua dai riti dalla dalla devozione il cristianesimo dicevo prima arriva in etiopia intorno al quarto secolo eh attraverso un monaco tipo siriano pensate frumenzio e quindi giunge direttamente dal medio oriente nasce una chiesa si separa dalla chiesa cattolica di Roma adesso sorvolo su questi motivi per motivi culturali religiosi ecco però rimane una chiesa molto popolare molto viva in queste foto noi vediamo eh la la liturgia le funzioni ehm liturgiche cristiane eh i simboli della fede cristianesimo etiopico e queste sono le chiese di la libella eh sono nel nord dell'etiopia al confine con l'eritrea eh sono delle costruzioni molto particolari eh risalenti ai secoli al secolo dodicesimo tredicesimo scavate nella roccia dal re la libelà perché perché la libelà cristiano voleva costruire una cittadella santa eh un luogo simile a Gerusalemme dove i fedeli etiopici potessero recarsi in pellegrinaggio evitando così viaggi molto difficoltosi per quei tempi e quindi nasce come dire una Gerusalemme d'Africa il cristianesimo etiopico si caratterizza molto per la componente monastica Debrel ecco perché Debrel Ibanos è il più importante santuario monastico d'Etiopia e è il luogo di pellegrinaggio per tutto il paese vengo alla vicenda perché si arrivò a tanto io ho dedicato nel mio libro proprio un paragrafo alla propaganda del disprezzo la conquista prevedeva costi molto alti l'impiego di molti soldati e mezzi militari lo dicevo prima mezzo milione di uomini e c'è da dire che eh mai nelle guerre coloniali ottocentesche di primo novecento era stato utilizzato un numero così consistente di militari cioè Mussolini punta tutto sull'Etiopia doveva conquistarsi l'approvazione popolare e quindi inizia una propaganda di guerra con tutti i mezzi tecnici a disposizione allora molto avanzati i giornali quelli consentiti ovviamente i cine giornali prima del film si proiettava sempre i dieci minuti di propaganda sulla eh sull'Italia in Africa manifesti e poi vediamo anche nella scuola la scuola viene investita totalmente da questa propaganda qui vediamo un curioso eh la copertina di un quaderno un quaderno un quaderno per le scuole elementari il soldato italiano è un coraggioso civilizzatore l'etiopico è un barbaro da civilizzare e quindi da trattare con disprezzo qui c'è un punto molto importante eh la l'approvazione della chiesa cattolica eh sulla guerra d'Etiopia eh più undici il papa si era mostrato contrario ma alla fine fine venne obbligato a tacere e qui vediamo il cardinal Schuster arcivesco di Milano che benedice l'impresa con queste parole qui lui sta predicando in Duomo la liberazione dell'Etiopia dalla schiavitù dall'eresia ecco c'è da dire che il cristianesimo etiopico non era considerato un cristianesimo autentico erano eretici ecco allora un motivo di più per una propaganda del disprezzo a questo si associano le riviste cattoliche e missionarie la civiltà cattolica rivista dei gesuiti parla del clero etiopico ignorante e corrotto le missioni della consolata insistono sul cristianesimo copto etiopico come un cristianesimo fiacco ristretto superficiale senza profonde radici e ancora missioni della consolata il clero abbissino è venale fanatico ignorante corrotto e ipocrita le monache senza verginità né voti queste espressioni delle riviste di alcune riviste missionari per dire come questa propaganda in fondo penetrante che manipola le coscienze e manipola qui vediamo il negus a il selassie al suo ritorno siamo nell'aprile del 41 ormai l'italia è entrata in guerra e appena entra in guerra nel giugno del 40 perde quasi immediatamente i territori coloniali perché vengono occupati dalle forze inglesi quindi perde perde i possedimenti a il selassie dall'inghilterra ritorna in etiopia con l'aiuto degli inglesi questa è una rara foto in cui l'imperatore una delle prime visite che fa va ai resti del santuario di Debre Libanos sapeva perfettamente che cosa era accaduto ed è un'occasione per fare memoria delle vittime invece un rito religioso una processione una processione dolente in cui si portano i resti umani trovati sul terreno dietro la croce insomma accompagnata da canti dolenti e questo è un altro aspetto di questo di questa vicenda in grazie a tutti 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 con tanto di lista, figuravano una cinquantina di nomi. Eppure tra il 45 e il 47 erano in corso già le discussioni in vista dei trattati di pace che avvengono nel febbraio del 47 e quindi in quel febbraio del 47 quando l'Italia firma il trattato di pace italiano rinuncia ai suoi possedimenti coloniali, proclama la nuova repubblica, primo gennaio 48, si impegna nella ricostruzione del paese e quindi i suoi interessi si concentrano su questo e sul giocare un ruolo internazionale che fosse, come dire, voltare pagina rispetto all'Italia fascista. D'altra parte, in Etiopia che cosa accade? A Elès Elassier anche lui concentra i suoi sforzi per risollevare il paese dai danni subiti. Quindi si impegna a riprendere una modernizzazione del paese, stabilisce contatti internazionali. Elès Elassier nel 63 fonda da Addis Abeba l'organizzazione dell'unità africana, diventa un grande leader della decolonizzazione africana e questo è significativo perché aveva acquisito una grande fama a Elès Elassier per il fatto di aver alla fin fine sconfitto anche lui il fascismo. E quindi che cosa accade in queste circostanze? Da una parte e dall'altra, in Italia, in Etiopia, si sceglie di voltare pagina e quindi di oscurare quella pagina così tragica di Debre Libanos. Io mi fermerei qui se ci sono delle domande, osservazioni. Ecco, questa è un po' la vicenda dolente e triste. Grazie. Sì, apriamo lo spazio per domande, interventi. Appunto, ricordo di essere brevi il più possibile. Se possibile vorrei farla io una domanda, prima di tutto al professore, perché una delle cose più interessanti nel suo libro era, proprio su questa questione qua dell'impero cristiano, lei sottolineava che c'è l'utilizzo da parte di Mussolini, di Graziani, dei fascisti, delle truppe musulmane, no? Perché, appunto, una delle questioni che lei sottolinea nel libro è proprio che il fatto che fosse un impero cristiano per, da una parte, motivarne la conquista, nella propaganda, e dall'altra parte, per cercare di costruire un qualche tipo di consenso nel paese era, potremmo dire, di delegittimare il cristianesimo e la chiesa. Quindi se può approfondire questo punto qua? Sì, ma certamente, allora, l'elemento religioso viene ampiamente utilizzato dal regime, sia per la conquista, sia per l'assoggettamento dell'Etiopia. Una volta proclamato l'impero, la nascita dell'impero dell'Africa orientale italiana, la chiesa etiopica viene asservita al regime coloniale, anche perché l'imperatore era andato in esilio. Tra l'altro, allora, qui c'è una situazione molto complessa, perché, dicevo prima, impero cristiano, cioè storicamente la chiesa etiopica, quindi autottona, si era legata strettamente al potere imperiale, però non era come era accaduto in Europa, per esempio, durante il Medioevo, che la chiesa e il potere imperiale erano due poli di potere distinti, a volte in conflitto, a volte, però erano distinti. La chiesa etiopica era parte integrante della struttura imperiale, e quindi, tanto che il vescovo, diciamo, le primate della chiesa etiopica, partecipava alle decisioni dell'imperatore. Quindi, allora, perché quando, nei primi mesi, dopo, diciamo, dopo il maggio 36, l'azione repressiva comincia a dirigersi nei confronti della chiesa, perché la chiesa etiopica rappresentava un elemento di continuità con quell'impero che era stato sconfitto, e quindi bisognava stroncarla. L'idea di un'eliminazione della chiesa etiopica già era nella mente di Graziani. Non avviene soltanto... poi viene messa in pratica, realizzata con Debre Libanos, ma già c'era quest'idea che la chiesa era... dava sostegno alla resistenza, e quindi bisognava stroncarla. A cominciare da... a servire i vescovi presenti al regime coloniale. Questo è un punto importante. Poi l'altra questione, i musulmani. Allora, nell'esercito... io, tra l'altro, ho scritto anche un ultimo... dopo Debre Libanos è uscito un altro mio libro, che si chiama Testimone di un massacro, che racconta il diario di un ufficiale italiano alpino, che partecipò alla strage, al comando di una banda di Ascari. Gli Ascari erano gli autottoni etiopici, arruolati nell'esercito coloniale italiano. Dico questo perché nell'esecuzione che avviene a Debre Libanos vengono utilizzati battaglioni musulmani. I battaglioni erano distinti, perché non c'era... perché la logica era quella di utilizzare l'identità religiosa a scopo militare. Quindi venivano tenuti i musulmani cristiani, venivano tenuti separati. E quindi vengono utilizzati battaglioni musulmani per eliminare, uccidere e massacrare gli etiopici cristiani. Perché? Perché per evitare che battaglioni cristiani desistessero dall'azione, perché andavano a colpire i propri correligionari. Questo poteva essere un rischio per il regime. Non so se ci sono altre cose. Prego. Volevo chiedere, quali sono le fonti, i documenti e gli atti più importanti che lei ha utilizzato per la ricostruzione della strage? Allora, le fonti sono varie. Dunque, innanzitutto c'è da dire che agli studiosi le fonti su cui ho lavorato sono fonti note agli studiosi. Però ecco, mancava, io ho voluto proporre la vicenda a un pubblico più vasto. Comunque, le fonti sono fonti archivistiche. Ci sono le carte graziani conservate all'archivio centrale dello Stato a Roma. Fonti inglesi conservate conservate ad Addis Abeba, all'istituto di studi etiopici, che sono rimaste lì. Poi molta letteratura, letteratura coloniale. E poi, come dicevo, gli studi che sono stati fatti fino fino ad oggi. Prima si citava Del Boca. Certamente Angelo Del Boca è stato il primo che ha scritto su questo e ha messo in luce tutta una serie di vicende, di fonti. Quindi ho utilizzato anche molta bibliografia esistente, con l'idea di proporre a un largo pubblico, però, di portare... perché altrimenti, appunto, io mi sono reso conto che mancava in Italia una memoria pubblica di questo. Nella comunità scientifica, tra gli storici, sono vicende note queste, purtroppo. Però manca nella memoria pubblica, nella coscienza pubblica. Infatti, mi piaceva l'idea di... si parla di giornate della memoria, ma giornate, le vittime del colonialismo in Africa, che poi non solo fascista, anche liberale. Cioè, le violenze ci sono state. Ecco. Quindi sono un po' queste le fonti che ho utilizzato, diciamo. Allora, i trattati di pace che citavo prima, obbligavano l'Italia a un risarcimento, alla restituzione di beni trafugati, tra cui il famoso obelisco di Axum, a Roma, che poi è stato restituito pochi anni fa, obbligavano l'Italia a questa restituzione e al risarcimento di danni di guerra, con delle cifre. Questi obblighi furono totalmente disattesi, parzialmente qualche risarcimento c'è stato. Pensiamo alla vicenda dell'obelisco di Axum. Doveva essere restituito nel giro di uno o due anni? Adesso non ricordo neanche. Ecco, è stato restituito all'inizio degli anni 2000. Nonostante i governi si siano succeduti, Prima Repubblica, Seconda Repubblica, quello che vogliamo. Questo è un esempio di come sia passata nell'oblio tutta questa vicenda. Non riesco a comprendere perché questa scelta di oscurare questa vicenda quando invece il governo e anche i paesi che hanno vinto la guerra avrebbero potuto utilizzarla a maggior ragione come propaganda contro quello che era stato il regime fascista. Invece si è scelto di non parlarne, di fare finta di niente. Ecco, non riesco a capire il motivo, cioè a chi è servito questo. Ai liberali che hanno qua la borghesia che ha continuato chiaramente ad esistere, però dopo quello che è stato appunto, dopo quella che è stata la fine della seconda guerra mondiale, sarebbe invece potuto servire moltissimo l'opinione pubblica a capire veramente i disastri che erano stati fatti. Guardi, purtroppo, cioè, in Italia il discorso coloniale nel dopoguerra è stato completamente rimosso. Si è parlato di amnesia, di silenzio, ecco, dicevo prima del Boca, il primo che ha scritto su queste cose in maniera critica, i primi lavori sono degli anni settanta, insomma, ecco, quindi un lungo periodo. Perché? Perché l'Italia doveva proporre un'immagine di sé che poco aveva a che fare con il fascismo, anche perché la questione dei criminali di guerra, che poi venne accantonata, come avevano chiesto gli etiopici, però è chiaro che lì rimetteva in gioco le responsabilità di persone ancora viventi, perché c'era un elemento di continuità, cioè non è che il fascismo si era caduto, il regime non c'era più, però c'era una generazione che continuava, che era sopravvissuta. C'erano dei responsabili, tra cui appunto il maresciallo. Dovete pensare che la prima raccolta di documentazione sull'operato, sull'attività dell'Italia in Africa venne avviata negli anni 50, attraverso una commissione, un comitato, un comitato scientifico, si chiamava per la documentazione dell'Italia in Africa. Questo comitato era composto da ex coloniali. Questo, cioè, quindi è chiaro che questo poneva il problema di... l'oscuramento era la strada più comoda, più... oltretutto l'Italia negli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, si rigioca anche sulla politica africana, in maniera anche positiva. Io adesso uscirà un mio libro. Però, ecco, sono circostanze storiche che motivano questo oscuramento. Su questa cosa più vorrei dire due parole anch'io. È assolutamente condivisibile quello che diceva il professore. Se si vuole parlare delle motivazioni, quali possono essere le motivazioni, gli interessi, ma essenzialmente perché quello che... su cui scommettono quelli che sono poi i due maggiori partiti politici in Italia nel dopoguerra, cioè la democrazia cristiana e il partito comunista italiano, è quello della cosiddetta pacificazione sociale. Rimangono gran parte degli apparati all'interno del Ministero degli Interni, degli apparati pubblici, del funzionamento dello Stato, all'interno delle forze armate. C'è una grandissima continuità con quelli che erano gli apparati precedenti sotto il regime fascista. C'è la famosa amnistia che viene portata avanti, tra l'altro su proposta di Togliatti, del partito comunista italiano, e quindi c'era un interesse molto pratico. Cioè l'interesse era quello, potremmo dire, conseguente alla svolta di Salerno. Cioè è l'interesse di lavorare per costruire la repubblica democratica italiana seppellendo sotto tonnellate di sabbia tutto quello che è accaduto, facendo finta che non sia mai esistito, per poter anche riutilizzare e continuare a utilizzare tutta una serie di, da un lato, di personale politico e amministrativo e burocratico e tecnico che aveva avuto il suo ruolo e che poteva continuare ad averlo, all'interno di ministeri, apparati di vario genere e poi anche perché non è solo la responsabilità del regime fascista, è la responsabilità della borghesia italiana, è la responsabilità dei suoi giornali, è la responsabilità dei suoi industriali, è la responsabilità di tutti quelli che hanno appoggiato tutto questo. Perché, come noi benissimo sappiamo, il fascismo e anche il nazismo in Germania non salgono al potere per un comandamento divino, ma salgono al potere perché vengono profondamente, potentemente foraggiati, finanziati da tutti i grandi gruppi italiani e tedeschi che utilizzano questa forma autoritaria dello Stato e queste ideologie nazionaliste e stataliste come strumento da una parte di repressione nei confronti dei lavoratori e dall'altra parte come strumento di, diciamo, per irregimentare l'economia nazionale per affrontare gli anni 30 e le altre potenze mondiali all'interno di una grandissima crisi che appunto è quella del primo dopoguerra e poi negli anni 30 una delle motivazioni della politica coloniale fascista è anche proprio collegata alla politica economica che porta avanti il fascismo negli anni 30. Gli anni 30 sono gli anni del capitalismo di Stato, della nascita dell'Iri, della grande riforma bancaria del 36 e la mobilitazione molto grande di cui parlava il professore è anche legata a tutto un investimento, è la politica burro e cannoni, cosiddetta, del capitalismo di Stato che prevale in tutto il mondo, in Italia come in Germania, come nella Russia staliniana come in America col New Deal di Roosevelt e in tutto il mondo e la politica coloniale fa parte di questo enorme sforzo di una economia di guerra potremmo dire che poi sfocia nella seconda guerra mondiale quindi da questo punto di vista era assolutamente logico seppellire tutto questo perché voleva dire seppellire le responsabilità della borghesia italiana che aveva sostenuto il fascismo e sostenuto l'avventura coloniale banalmente il Corriere della Sera da un giorno all'altro si ripulisce diciamo di tutto quello che aveva fatto e detto nei precedenti vent'anni e diventa il grande giornale liberale della borghesia italiana quindi questo è il nodo fondamentale secondo me appunto grazie sono Marina Medi e interverrò il primo di marzo l'altro incontro che faremo alla sala del Gregretto comunque rispetto alla domanda che faceva credo che una cosa che non bisogna dimenticare è che alla fine della guerra l'Italia si trovava in una situazione di grande cioè c'era il problema che la guerra fredda stava per cominciare e che l'Italia era stata schierata ovviamente con la parte degli occidentali degli Stati Uniti e degli Aleati e questa cosa in particolare in una situazione come l'Italia dove il partito comunista che aveva vinto con la resistenza eccetera era molto forte per cui era necessario in qualche modo bloccare tutta la parte di sinistra bisognava impedire che la sinistra prendesse potesse usare anche il colonialismo come uno strumento a suo vantaggio e quindi tutto quello che ha avuto a che fare con la resistenza eccetera è stato mano in mano e sempre di più tacitato pensate che Badoglio era stato un governatore della Libia adesso il professore ha parlato molto bene la ringrazio dell'Etiopia però non dimentichiamo che in Libia c'è stata una cosa Badoglio era entrato a Addis Abeba aveva condotto la conquista dell'Etiopia Badoglio è stato prima di Graziani sia in Libia che in Etiopia e hanno fatto delle cose pazzesche pensate che in Libia il 10% della popolazione è stato ucciso quindi una cosa pazzesca non parliamo poi degli animali eccetera Badoglio però, vi ricordate, quando c'è stato l'8 settembre è diventato il presidente del consiglio dell'Italia liberata insomma che aveva deciso di buttare via il fascismo quindi come si poteva prendersela con Badoglio nel momento in cui era diciamo l'unico che stava dalla parte degli alleati nella seconda parte della guerra quindi c'è stato tutto un assoluto tacitamento di questa cosa qua lo stesso oscuramento lo stesso non parliamo poi delle fonti dicevate voi giustamente queste fonti, non solo questo centro studi era controllato in qualche modo dall'esercito e comunque dal personale di tipo fascista coloniale insomma diciamo ma anche tutte le fonti che avevano a che fare con i militari sono state tacitate e del Boca i successivi hanno dovuto fare una lotta pazzesca per riuscire a impossessarsi di questi documenti e del Boca è stato accusato di fare della propaganda contro l'esercito ha rischiato la galera e non è mai diventato un accademico proprio perché aveva usato parlare del colonialismo veramente una cosa scandalosa da questo punto di vista quindi è interessante vedere questo discorso dell'oscuramento del colonialismo ed è per quello che io e la mia collega Anna Di Sappi abbiamo fatto questo tentativo di fare un libro molto facile molto semplice, molto espositivo che faccia vedere in particolare la complessità del tema coloniale perché il colonialismo è interessante non solo per queste terribili stragi o diciamo fatte in Etiopia fatte in Eritrea fatte in Somalia fatte in Libia in particolare la Libia ha avuto una resistenza terribile nei confronti dell'Italia e quindi ha combattuto e sono morte migliaia di persone ma l'interessante è vedere secondo noi, secondo me e Anna due cose molto importanti da una parte come il pensiero coloniale e il pensiero razzista in particolare è assolutamente in continuità tra il momento liberale e il momento fascista abbiamo visto perché era molto facile altrimenti dire sì ma il colonialismo è stata una cosa del fascismo adesso il fascismo l'abbiamo buttato via e quindi siamo diventati italiani brava gente cioè siamo diventati bravi non siamo mai stati così cattivi erano solo i fascisti cattivi invece no perché se noi vediamo tutto il periodo coloniale del periodo liberale cioè quindi dalla fine dell'Ottocento fino all'arrivo del fascismo l'ideologia, i meccanismi sono gli stessi e poi l'altra cosa molto interessante ne parleremo magari l'uno quando ci vedremo è come il mondo coloniale cioè come era organizzata la Polonia è assolutamente sconosciuto io ho fatto molte volte nelle scuole la domanda che chiede quando è che è finito il colonialismo italiano? ve lo chiedo anche a voi voi sapete quando è finito il colonialismo italiano? veramente lo sapete? no cioè è perso nel beh c'è stata la guerra è finita sì ho capito ma dimmi come quando chi l'ha finita cioè ecco allora che questa ignoranza è veramente un frutto di quello che la scuola ha censurato nei confronti di questo tema perché sappiamo tutto magari sulla guerra dei trent'anni ma sul colonialismo italiano non sappiamo niente e specialmente non sappiamo niente di come funzionava la colonia cioè se uno dice quanti soldi ci ha messo l'Italia e quanto ci ha guadagnato nel fare la colonia perché se no c'è la solita sì è vero siamo stati un po' cattivelli però gli abbiamo fatto le strade gli abbiamo fatto i ponti gli abbiamo fatto questo gli abbiamo fatto quell'altro no? ecco allora andiamo a vedere che cosa è successo veramente non so non sapete per esempio sapete che alle persone agli autotoni non era permesso andare a scuola oltre la quinta elementare e questo a volte la terza a volte la quinta giustamente lei dice la terza e questo che cosa ha prodotto? ha prodotto una totale mancanza di una classe media o dirigente in quelle società e non ne abbiamo ancora parlato ma l'uno ne accenneremo che cosa è successo in questi paesi dopo quando c'è stata la liberazione certo l'SLSI è stato per un pochino ha tentato di rimettere insieme le situazioni ma poi un colpo di Stato un altro colpo di Stato e adesso guardate che cosa succede in Somalia che è in preda a signori della guerra a persone che fanno le cioè una situazione che riguardate in Libia guardate in Libia che cosa e tutto questo è colpa nostra scusate sì vorrei dire solo due cose al volo poi lascio per la domanda su quello che diceva la professoressa Medi due osservazioni da un lato ovviamente siamo d'accordissimo sulla questione dell'occultamento di cui stiamo parlando questa sera infatti una delle cose interessanti non solo non si sa quando è finito il colonialismo ma per esempio una cosa che mi ha colpito tantissimo è che viene ripetuto continuamente che per esempio le leggi razziali il fascismo le ha fatte nel 38 in realtà non è vero ha fatto le leggi contro gli ebrei nel 38 ma le leggi razziali il fascismo le ha fatte nel 37 contro invece i sudditi perché così venivano chiamati quindi non erano cittadini delle colonie mettendo su un vero e proprio regime di apartheid sia in Etiopia che contro gli ebrei ma non contro gli ebrei contro sì in Etiopia in Africa nel corno d'Africa sì 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 per un utilizzo politico e appunto infatti quello che volevo dire per carità certo non si può negare che abbia avuto un ruolo la questione della formazione scolastica in quei paesi ed è un problema che si portano ancora dietro fino ad oggi dopodiché una cosa da sottolineare secondo me secondo noi è che quello che è successo in Etiopia quello che succede in Somalia quello che succede in Libia dopodiché colpa nostra io non lo so colpa delle potenze imperialistiche che intervengono in quei paesi che dilaniano quei paesi con l'inserimento dei loro capitali e quindi poi prendono in mano frazioni gruppi di potere di quei paesi sfruttando anche tutte le possibili divisioni etniche confessionali che possono essere religiose che possono essere o linguistiche di ogni genere che possono essere prese in mano per manovrare all'interno di quei paesi lì dal punto di vista di una lotta per le sfere di influenza per il potere secondo me è molto interessante quello che diceva appunto il professore su come il regime fascista capisce che deve usare i musulmani contro i cristiani è la storia di quello che vediamo noi oggi in Siria di quello che abbiamo visto in Iraq l'utilizzo dei sunniti contro gli sciiti dei kurdi contro ed è un utilizzo che il colonialismo ha fatto da fine dell'ottocento in tutto il Medio Oriente in tutta l'Africa da Sykes-Picot e che continua oggi a essere uno strumento nelle mani delle borghesia nazionali delle borghesia imperialistiche è quello che vediamo addirittura viene fatto anche oggi in Ucraina da una parte le chiese che mandano i soldati a morire con la benedizione divina cioè è uno strumento che viene usato in maniera tradizionale dalle borghesia e dalle borghesia imperialistiche quindi è quello il disastro in Africa c'è perché c'è l'intervento delle potenze imperialistiche non è la questione dell'ignoranza poi c'è anche la questione dell'ignoranza ma la questione è la lotta per le risorse oggi si discute del fatto che sia ripartita una nuova la chiamavano scramble for Africa a inizio del novecento la corsa all'Africa per prendersi la torta di tutte le colossali risorse che ha quel continente terre rare metalli eccetera collegati oggi a questa nuova battaglia colossale che si che si è aperta riguardo alle auto elettriche alle nuove tecnologie ai microchip alla ristrutturazione elettrica digitale mondiale quindi è per quello che in quelle zone del mondo come le tensioni che ci sono in Medio Oriente sono legate alle risorse energetiche o le tensioni legate alle tensioni nel mar cinese meridionale nello stretto di Malacca o attorno a Taiwan sono collegate a interessi imperialistici quindi quello è il nodo secondo noi fondamentale da impugnare per capire il mondo io volevo fare una domanda quando tu all'inizio hai parlato dell'imperialismo e dello scrembo per Africa negli altri paesi la ricerca storica quali linee ha seguito perché in Italia appunto già con Del Boca con Rochard con Dominioni ha seguito una certa linea ma per esempio nel Congo il Congo ha preso l'indipendenza nel 60 c'è stato tutto il discorso tragico di Lumba cosa ha fatto la ricerca storica per esempio nel Congo o in Francia al di là della guerra d'Algeria o in Inghilterra lì ci sono pagine tremende di colonialismo e siccome personalmente mi sono sempre occupata come insegnante di colonialismo italiano interessava sapere negli altri paesi come fosse avviata la ricerca e se è stata avviata non so se il professore vuole ma allora certo il caso italiano è molto singolare negli altri paesi diciamo la ricerca storica è andata avanti in Francia molto sull'Algeria in particolare ecco c'è da dire che due esempi ma Francia Inghilterra che erano i grandi imperi coloniali effettivamente a Londra a Parigi si trovano i grandi centri di studi di studi storici sul colonialismo a Londra c'è la scuola di studi orientali africani la più grande la più prestigiosa diciamo certamente c'è stato un fare i conti con il colonialismo adesso cioè questo è un tema complesso nel senso che a Parigi in Francia i conti storici con il colonialismo si sono fatti però la rivolta delle banlieue parigine come cioè c'è ci sono dei nodi irrisolti perché se ricordate le banlieue parigine sono immigrati algerini immigrati magrebini ecco quindi c'è a livello storico si sono fatti molti studi certo poi la ricaduta che questo questa ricerca storica ha avuto sul su un nuovo approccio diciamo sulla convivenza sulla coabitazione questo è un nodo risolto beh sì su questo io quello che direi è che appunto il professore ha tirato fuori l'esempio delle rivolte nelle baglie di Parigi il nodo irrisolto di questo di questo fenomeno per cui non potrà mai fino in fondo essere risolto qua in Europa è che anche negli ultimi 50 anni dopo la fine del colonialismo in senso stretto nel senso di un dominio diretto dal punto di vista politico di quelle di quelle regioni negli ultimi 40 anni possiamo dire che per la Francia poi in maniera particolare quella che tutta la Franca Africa come viene definita l'Africa subsahariana della costa d'Avorio il Senegal quella zona lì potremmo dire che un po' come l'est Europa e anche il Maghreb il Nord Africa sono state le potremmo definire zone economiche speciali dell'Europa cioè zone da cui l'Europa l'imperialismo francese le varie potenze europee hanno tratto e traggono negli ultimi decenni forza lavoro a basso costo che utilizzano per diciamo rimpolpare una demografia sempre più in difficoltà sempre più vecchia e calante e quindi ovviamente da un lato c'è il peso della storia e dall'altra parte c'è il peso delle contraddizioni di classe nel senso che perché gli immigrati abitano nelle balieux perché mediamente gli immigrati in Europa in questo bel giardino felice di cui parlavamo quando entrano in Europa in realtà vengono inseriti nelle stratificazioni salariali più basse tra l'altro spesso anche con uno spreco di capacità di talenti di formazione anche come tutti noi sappiamo penso sia capitato a tutti nella nostra vita quotidiana incontriamo una marea di lavoratori immigrati che magari hanno lauree di primo livello che però qua in Italia finiscono a fare l'imbianchino il muratore la badante o a girare con le biciclette di globo quindi questa è la società europea una società in cui c'è una discriminazione aperta nei confronti degli immigrati quindi da un lato c'è questo questa contraddizione storica che tra l'altro a volte alimenta anche delle ideologie che anche quelle vanno combattute spesso noi ci capita di incontrare ideologie di una specie di di una visione panafricana cioè di un riscatto dei paesi africani contro i paesi coloniali contro l'Europa per noi non è tanto la questione se bisogna fare il tifo per la borghesia europea o per le crescenti borghesia africane quella nigeriana o di altri paesi per noi la vera questione è l'internazionalismo cioè quindi l'unità dei lavoratori al di là di tutte le barriere tutti i confini quindi quella per noi è l'unica strada percorribile e penso siamo che sia anche l'unica vera soluzione per risolvere queste questioni risolte della storia che in questa società qui non potranno mai avere soluzione perché questa società difendendo interessi nazionali non può fare altro che dover difendere anche ideologie nazionalistiche xenofobe perché sono strumenti come l'utilizzo delle divisioni religiose eccetera strumenti all'ordine del giorno nella battaglia politica della società borghese per difendere il dominio della classe dominante buonasera io volevo fare una domanda che astrae un po' dei fatti che sono stati trattati questa sera cioè queste iniziative fanno emergere che alcuni fatti storici possono essere utilizzati a seconda degli interessi o tramite la mistificazione o più volte nascondendo o esaltando determinati fatti ma di questo nella comunità diciamo accademica c'è una coscienza o diciamo ci si richiama l'oggettività dell'accademia volevo fare questa domanda per cioè volevo chiedere qual è l'opinione riguardo a queste questo utilizzo della storia all'interno della comunità scientifica guarda se posso dirti la mia poi dopo lascio la parola al professore penso che la risposta l'abbia data anche un po' prima la professoressa Medi l'accademia la questione sono i vari storici che battaglie portano avanti Angelo Del Boca ricordava il professore che non solo è stata tardiva affrontare questi temi nel dibattito accademico storico e scientifico qua in Italia ma quando si è poi cominciato a farlo quegli storici che hanno provato a farlo sono stati osteggiati da tutte le forze possibili e immaginabili mentre tentavano di farlo fino ad arrivare addirittura alla minaccia appunto del carcere o cose del genere quindi la questione è che padrone uno vuole servire appunto come dicevamo noi prima come centro Buonarroti e come internazionalisti noi quello che ci interessa è di portare avanti e far uscire allo scoperto la storia di chi immediatamente fino adesso nella storia ha subito gli eventi della storia quindi la questione è fare una scelta la questione è uno nel mondo accademico che scelte fa penso sia quello poi e ovviamente ci sono tutte le possibili forme di potremmo dire incoraggiamento in una direzione o nell'altra che tutta una serie di strutture interessi economici editoriali accademici universitari quello che uno vuole possono utilizzare per spingere in una direzione o nell'altra no? Sì per continuare questo posso dire che la comunità scientifica la comunità accademica è sensibile al problema della memoria abbiamo cominciato questa stasera proprio focalizzando il tema della memoria e questo è chiaro che il discorso di riportare all'attenzione la storia perché ripartire dalla storia questo è il problema qui c'è un nodo secondo me lo dico perché credo che tra voi ci sono studenti universitari ci sono? sì cioè l'interesse per la storia ma da dove nasce? nasce da problemi domande del presente cioè noi siamo credo siamo in un tempo difficile in cui mancano le visioni di lungo periodo per esempio e come si fa a elaborare una visione di lungo periodo se non ripartendo dalla storia e dal passato in questo senso c'è un legame profondo tra passato presente e memoria cioè credo che sia un nodo importante per la costruzione di una coscienza civile proiettata nel futuro perché poi sul tema della memoria il comune di Affile che sta vicino a Roma un comune piccolo che sta però vicino a Filettino che è dove è nato Graziani nel 2012 ha deciso di fare un bel monumento per il suo eroe e quindi c'è questo monumento il professore ne parla nel libro è appunto no 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 non era per smantellato è stato smantellato è stato smantellato da quando? recentemente recentissimamente appunto perché la cosa è interessante è durato molti anni è appunto è stato denunciato subito dall'Ampi che ha denunciato la cosa e in primo tempo il giudice ha deciso che sì che era un'apologia di reato fascista e che quindi doveva tra l'altro il comune aveva pagato ovviamente con i soldi del comune soldi della regione Lazio all'epoca tenuta dalla Polverini e poi cosa è successo che la Cassazione invece ha detto che no che non era apologia di reato e io ero arrivata fino a qua nel 21 invece adesso l'hanno tolto? Sì ho sentito che hanno appunto hanno smantellato comunque sì no l'esempio di affile è emblematico perché effettivamente io poi ne parlo sempre nelle lezioni cioè rappresenta la ricaduta del passato nel presente quindi è chiaro che nella nella scarsa conoscenza del passato riemergono poi anche prima facciamo il discorso sul razzismo gli stereotipi coloniali come riemergono nei momenti di crisi poi poi l'abbiamo visto quando aumentano i flussi migratori questo discorso di criminalizzazione dei migranti questo è la riemersione di stereotipi che affondano le radici in un passato coloniale che non è mai stato risolto diciamo c'è una domanda c'è una domanda anche dalle discussioni che sono emerse poi che appunto evidentemente in Europa che un po' si vuole dare l'immagine diciamo della potenza benigna democratica portatrice di cultura eccetera un po' a nessuno faccia comodo ricordare il colonialismo e quindi anche le non accuse al colonialismo italiano un po' sono anche dovute al fatto che la Francia l'Inghilterra e tutti gli altri paesi diciamo avevano lo stesso problema anzi nel dopoguerra ci sono ci sono proprio i processi di decolonizzazione no? e quindi evidentemente anche oggi non so quanto l'Europa pubblicizzi diciamo queste pagine di memoria è uno dei motivi per cui è interessante no? provare a fare questa proposta di mettere una data a riguardo che può essere uno spartiacque tra chi diciamo questa storia vuole guardarla davvero in faccia e quindi collegare il fatto che il colonialismo comunque era collegato diciamo allo sviluppo del capitalismo nel mondo e dell'Europa come portatrice di questo sviluppo e non solo a il fascismo o alla dittatura insomma bene direi che se non ci sono altre domande chiudiamo qui l'iniziativa di questa sera poi avremo altra occasione per approfondire ulteriormente il primo marzo appunto al grechetto ringraziamo il professor Borruso per la sua esposizione grazie a voi buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti